I migranti continuano i mini sbarchi a Lampedusa, l'hot spot dell'isola è sovraccarico. Di scariche di smesse è scattato da Mazzara e Tripi il piano delle bonifiche. Di Gaiato, Assemblea del Comitato Invaso Poma Buonasera, ben trovati alla prima edizione di Media News di lunedì 8 luglio. Migranti continuano i mini sbarchi a Lampedusa, l'hot spot dell'isola che può ospitare un massimo di 97 persone sovraccarico, 200 migranti presenti nella struttura. Vediamo. Mentre continua il braccio di ferro tra governo e ONG, continuano i mini sbarchi a Lampedusa. Tra ieri sera e la notte appena trascorsa, nel giro di poche ore, si sono registrati due mini sbarchi. Sull'isola sono arrivati in totale 29 migranti. Una piccola imbarcazione è stata intercettata intorno all'una dalla motovedetta dei Carabinieri a circa un miglio dalla costa. 19 le persone a bordo, tutte di origini tunisine. Gli extracomunitari sono stati trasbordati su una motovedetta alla Guardia Costiera e accompagnati in porto, da dove sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Contrada in Briacola. Poche ore prima, in serata, altri 10 migranti erano stati bloccati a terra dopo essere approdati con un barchino a Cala Galera. Intanto, l'hotspot dell'isola, che può ospitare un massimo di 97 persone, è sovraccarico, 200 migranti presenti nella struttura, più del doppio. A lanciare l'allarme il sindaco, Toto Martello. Il Comune non ha alcuna competenza in merito, dice, sono alte le istituzioni che devono far sì che i migranti, una volta giunti sull'isola, restino nell'hotspot non oltre il tempo previsto, che è di 24-48 ore, e quindi vengano trasferiti in strutture adeguate. Invece, cosa succede? Si continua a ripetere che il porto di Lampedusa è chiuso, quando invece gli sbarchi non si sono mai fermati. La maggior parte dei migranti raggiunge l'isola a bordo di piccole imbarcazioni che approdano lontano dalle telecamere, mentre si gioca una battaglia politica senza scrupoli sulla pelle delle persone che sono a bordo di navi delle ONG, attacca il primo cittadino. Un fenomeno continuo, quello delle piccole imbarcazioni, che per lo più di noto all'alba giungono sul molo dell'isola e che sembra inarrestabile. Questa mattina sono stati ricordati gli avvenimenti tragici dell'8 luglio del 1960 a Palermo, un corteo è partito da Piazza Verdi all'angolo con la via Spinuzza, per raggiungere la lapide posta all'angolo tra via Macqueda e via del Celso. Si commemorano i 59 anni dall'uccisione dei quattro cittadini palermitani che persero la vita negli scontri avvenuti in quella giornata che molti non ricordano, ma che invece Palermo è stata protagonista di quei fatti che sotto il governo Tambroni spinsero centinaia di giovani, di disoccupati e di studenti a manifestare proprio per la difesa della democrazia. Palermo è stata una città che ha dato il proprio contributo con il sangue, perché, ripeto, persero la vita quattro persone, persero la vita Andrea Gangitano, 19 anni, operaio edile, Ciccio Vella, Francesco Vella, un dirigente sindacale della filia Cigelle di 42 anni, Giuseppe Malleo, un altro giovane, e poi la signora Rosa Barbera che era lì, che si affacciava durante la manifestazione. Quindi noi siamo di nuovo qua anche quest'anno per ricordare quei fatti, per cercare appunto di far tramandare il concetto della memoria, che spesso in questa città si va perdendo, soprattutto il nostro obiettivo è quello di coinvolgere le giovani generazioni. Infatti quest'anno siamo stati per l'ennesima volta all'interno del liceo, di un liceo palermitano, dove abbiamo indetto un concorso di idee proprio sui fatti dell'8 luglio e da questo concorso sono uscite fuori degli elaborati e delle installazioni che noi chiederemo quest'anno al Comune di Palermo di realizzarle in una scala più grande e di donarle alla città di Palermo proprio per consolidare questo pezzo di memoria storica. La memoria è fondamentale, guarda, quegli anni, quei mesi, quelle giornate furono mesi, giorni importanti non soltanto per Palermo ma per l'Italia. L'Italia scendeva in piazza contro il neofascismo che si andava affermando, il governo Tambroni, il governo reazionario, il congresso del Movimento Sociale a Genova che ha liberato, ha fatto scatenare una reazione fortissima popolare contro l'affermazione del fascismo e poi qui a Palermo ha continuato non soltanto per la lotta per la democrazia, per la Costituzione ma anche per il tema del lavoro. Scesero in piazza migliaia e migliaia di giovani, giovani edili, giovani disoccupati dai quartieri che rivendicavano lavoro e quindi noi non soltanto la memoria, il ricordo per non dimenticare ma allora come oggi il tema centrale è il lavoro, il lavoro che manca, il lavoro senza diritti, il lavoro senza dignità, il lavoro soltanto come strumento per poter sopravvivere. Ecco noi nel ricordo e nella memoria dell'8 luglio 1960 rilanciamo il tema del lavoro a Palermo che deve essere una condizione fondamentale per l'emancipazione, per la giustizia e per la democrazia. Discariche dismesse, scattato da Mazzara e Tripi, il piano delle bonifiche varato dal governo musumeci entro luglio toccherà anche a Camporreale, Bolognetta, Noto, Vittoria e Lentini. E' scattato oggi a Mazzara, Sant'Andrea e Tripi nel Messinese il maxipiano di bonifiche delle vecchie discariche dismesse varato al governo musumeci. Al comune di Mazzara incontro tra i tecnici e la regione i progettisti scelti al commissario e responsabili dell'ente locale. Si tratta del primo di una serie di sopralluoghi per individuare gli interventi attraverso le successive progettazioni, quantificare le somme necessarie per mettere in sicurezza e bonificare le vecchie discariche. I primi lavori interesseranno i siti con elementi di pericolosità maggiore. Prima iniziativa è quindi a Mazzara, Sant'Andrea incontrata a Zuppà e a Tripi incontrata a Formaggiara. Domani invece toccherà a Camporreale incontrata in Carcavecchio, quindi il 16 luglio a Bolognetta incontrata a Torretta. Intanto gli uffici del Dipartimento Acqua e Rifiuti hanno calendarizzato anche gli altri sopralluoghi. A Noto incontrata a Bombiscuro l'appuntamento è il 23 luglio, a Lentini per il sito di Contrada Armicci sopralluogo fissato il 31 luglio, infine a Vittoria incontrata a Pozzo Bollente la data stabilita è il 25 luglio. Prosegue così il lavoro dell'assessorato guidato da Alberto Piero Bon per intervenire sulle 511 discariche realizzate decenni fa in Sicilia con normative più vaghe e che poi una volta esaurite non sono mai state chiuse formalmente o bonificate. Molte di queste sono state realizzate prima del 2003, quando non c'era una legge che obbligava i comuni ad accantonare somme per la gestione postoperativa. Gli uffici regionali hanno dunque proceduto a diffidare i comuni in adempienti, così come prevedono le procedure di legge, e hanno affidato al commissario per il dissesto idrogeologico i siti per avviare gli interventi. Il governo musumece ha dovuto anche individuare le fonti di finanziamento. L'aggiunta ha indicato tra queste il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica, ma ha dato mandato agli uffici di avvalersi anche dai fondi comunitari. L'iter prevede che il commissario intervenga con la progettazione degli interventi in seguito ai sopralluogo dei RUP, responsabili unici dei procedimenti e dei progettisti che avranno il compito di individuare, progettare e quantificare le opere necessarie. Gli uffici e l'assessore Piero Bono nel frattempo hanno sbloccato 65 milioni per i siti di Priolo in provincia di Siracusa e Milazzo nel Messinese. Hanno avviato il finanziamento di 14 milioni per le bonifiche dei siti di Campofranco nel Nisseno, Troina in provincia di Ennea e Acqua dei Corsari a Palermo. Palermo sommersa da 10.000 tonnellate di rifiuti. Il comune punta il dito contro lo smaltimento senza regole. E ancora emergenza rifiuti a Palermo. In strada ci sono 10 tonnellate di spazzatura che non è stata ancora raccolta. La situazione più grave si registra nelle periferie, soprattutto a Villa Grazia, Bonagia, Via Messina Marine, Villaggio Santa Rosalia e Zona Oreto, ma anche in zona Cruilla, Sarenella, Vergine Maria, Mondello e nei pressi della zona dell'ospedale Cervello. La RAP spera di poter riuscire a superare l'emergenza prima del festino e ha potenziato le squadre per raccogliere la spazzatura utilizzando anche le ruspe. L'immondizia adesso dovrà essere conferita in altri impianti della regione siciliana perché la discarica di Bello Lampo è satura. Costo circa 10 milioni di euro in più e questo comporterà un'usura degli autocompattatori costretti a chilometri in più. L'amministratore della RAP, Giuseppe Norata, durante un incontro con l'assessore all'ambiente del comune di Palermo, Giusto Catania, ha fatto il punto sul lavoro di recupero dei rifiuti non ritirati dopo il rallentamento dell'impianto per il trattamento meccanico-biologico di Bello Lampo dovuto ad un incendio nella discarica nel mese di giugno e il sovraccarico per il conferimento dei comuni della provincia. L'impianto è ritornato in funzione e Norata assicura il recupero sarà ultimato entro la prossima settimana. Ad un innegabile momento di crisi della raccolta, ha aggiunto l'assessore Catania, purtroppo non sembra corrispondere una vera presa di coscienza dell'origine del problema da parte dei cittadini. Un corretto smaltimento differenziato abbatte la quantità di rifiuti anche del 90%. Basterebbe che tutti contribuissero in questa direzione, soprattutto nelle zone già servite dal porta a porta, per eliminare il problema alla radice. Dal sindacolo Luca Orlando e dall'assessore, infine, l'annuncio dell'attivazione a breve di un sistema che permetterà ai cittadini di inviare segnalazioni su comportamenti irregolari e illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti. Il sindaco di Napoli ha Polizzi generosa. L'iniziativa è dell'assessore Barbara Curatolo, che lo scorso mese di marzo ha avuto modo di incontrare a Brindisi nel corso di un convegno del Lanci, Luigi De Magistris. Tema dell'incontro, Napoli-Polizzi, il valore dell'accoglienza e della generosità del popolo meridionale. Appartiene non solo alla cultura cattolica, ma direi alla cultura europea il segno dell'accoglienza. Ma anche perché, possiamo dire, l'Europa si è formata grazie all'accoglienza. Qui noi siamo impegnati in prima linea, perché il nostro vuole essere un ruolo educativo. Educativo innanzitutto nel rispetto dei valori della Costituzione italiana, perché anche la Costituzione italiana è stata forgiata da un'anima civile, un'anima cristiana nello stesso tempo. E dentro la Costituzione italiana c'è lo spirito dell'accoglienza, solo che chi non se ne vuole accorgere, non se ne accorge. Sì, oggi Polizzi è praticamente il palcoscenico di una iniziativa a livello europeo, perché il sindaco di Napoli viene, non casualmente a Polizzi, viene per parlare di accoglienza, di fraternanza, del ruolo del Mediterraneo, delle politiche che debbono essere portate avanti in questa nostra nazione, verso i popoli del Mediterraneo. È il ruolo grande che il Mediterraneo deve avere per la pace, per la fraternità, per le diversità culturali e religiose, in metterla assieme in un grande progetto di pace. E questo mi inorgoglisce. Mi inorgoglisce perché da Polizzi non è la prima volta che partono questo tipo di iniziative. Polizzi nella storia è stata una città accogliente, molto etnica. Basta pensare che diverse etnie, diverse religioni, diverse anche civiltà coabitavano a Polizzi quando ancora non si parlava di coabitazione nella Sicilia e nel mondo. Due comunità che hanno grandi radici storiche, che hanno grande cultura, bellezza, umanità e quindi di fronte alle barbarie che si vivono in questi tempi noi rimaniamo umani. Quindi non stiamo dietro ai like e alla propaganda ma cerchiamo di costruire un Sud che crei sviluppo, crei economia e lavoro ma senza mai perdere di vista umanità, fratellanza e solidarietà. Noi vogliamo costruire un Mediterraneo di pace, un Mediterraneo di sviluppo, un Mediterraneo in cui i popoli si uniscono per difendere il pianeta, difendere la vita e non per metterci l'uno contro l'altro. Un Mediterraneo di sangue in cui si raccolgono morti, in cui si sbarrano i porti, non è questa la nostra storia, non è questa la nostra terra e il nostro mare. Napoli si candida da un punto di vista geopolitico a costruire un'Europa diversa, fatta di diritti, di solidarietà, di giustizia sociale, che sappia costruire ponti con i nostri fratelli e le nostre sorelle africane, perché insieme possiamo costruire davvero un mondo migliore, appunto unire i popoli contro le disuguaglianze e non mettere i penultimi contro gli ultimi. Diga, Iato, Assemblea del Comitato Invaso Poma per discutere sulla proposta di legge regionale attualmente in Parlamento riguardante la riforma dei consorsi di bonifica. Questo invaso rappresenta per tutta la cittadinanza partinicese ma non solo una risorsa importante. La Diga ha rappresentato tantissime battaglie sociali, quindi risorsa a 360 gradi. Questa riforma che c'è pendente in Parlamento all'Ars è una riforma che il Comitato sposa. Io non faccio parte del Comitato, ma ho appena appreso che il Comitato la sposa in pieno e fortunatamente abbiamo l'On. Figuccia che si interessa delle cose di cui la politica si deve interessare. Questa comunità guarda con attenzione alla proposta di legge varata dal governo regionale. Sì, assolutamente. Intanto è una riforma che passa a un primo ostacolo che è quello della giunta di governo. Subito dopo arriveremo in Parlamento, spero prima possibile, ma è necessario che ovviamente il Comune di Partinico insieme al suo Comitato dell'Invaso Poma, insieme al Presidente del Consiglio Comunale con una delegazione di consiglieri ed il Commissario possa rappresentare le esigenze di un comprensorio molto vasto. Diciamocelo chiaramente, i consorsi sono stati per troppo tempo percepiti come dei veri e propri carrozzoni, bisogna restituirli agli agricoltori. Noi oggi siamo qui per ridar voce a questa categoria. Chiaramente, insomma, su tutti questo Comitato chiede garanzia. Oggi siamo qui appunto per raccogliere una serie di suggerimenti, di istanze, quindi è un punto di partenza. Come ha detto l'onorevole, sicuramente saremo lì a chiedere, insieme al Comitato Invaso Poma, io in qualità di Presidente del Consiglio e il Commissario Dottor Arena, il Commissario Sordinario del Comune di Partinico, che oggi non è potuto essere qui presente, sicuramente chiederemo audizione nella Commissione Attività Produttive per essere ascoltate e dove proporremo tutti i suggerimenti e i consigli che ci vengono segnalati dai tecnici, comunque dagli addetti ai lavori. Nella speranza che questo disegno di legge diventi legge, finalmente si arriva al processo di democratizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua. Significa che i consorziati eleggeranno proprio il rappresentante, sia nel comprensorio che sia a livello consortile, quindi regionale, per una gestione finalmente democratica e che deve tornare assolutamente ai contadini. Una gestione democratica significa ritornare a dare la gestione dell'acqua ai fruitori, quindi i coltivatori, le imprese agrarie e agricole, quindi le organizzazioni di categoria e quindi è un fatto estremamente positivo. Ieri all'oratorio del Santissimo Rosario a San Domenico a Palermo l'ultimo appuntamento di Aspettando il Festino 2019, calendario di incontri ideato da Lollo Franco e Vincenzo Montanelli, novità assoluta dell'edizione del 395esimo festino di Santa Rosalia. La Santuzza e Van Dijk, una visita guidata a cura della dottoressa Maria Oliveri per ammirare uno dei capolavori del pittore Fiammingo. È una lunga storia, una storia d'amore che comincia nel 1625 quando sul Monte Pellegrino vengono scoperte le ossa della fanciulla, della Santuzza, la fanciulla normanna, che è diventata remita, era scomparsa proprio sul Monte Pellegrino. Nel 1625 Van Dijk si trova a Palermo per due motivi, perché gli viene commissionato un quadro per il vicerre Emanuele Filiberto e perché è stato invitato da Rubens a trovare la famosa pittrice Sofonis Banguissola. In questa bellissima e felice circostanza il punto negativo è che appunto scoppia la peste. Van Dijk arriverà qui tra il 1624 e il 1625 quando in un'atmosfera che possiamo immaginare doveva essere assolutamente terribile, tragica e quasi surreale è costretto a lasciare Palermo. Prima di andar via però in questo bellissimo oratorio gli viene commissionata dai confrati questa stupenda tela che deve raffigurare la Madonna del Rosario. Siamo in ambito domenicano con tre santi domenicani famosi San Vincenzo Ferreri, San Domenico e Santa Caterina da Siena più otto santi palermitani tra cui appunto Santa Rosalia. Santa Rosalia viene subito fatta santa e addirittura proclamata patrona di Palermo. Per questo motivo Van Dijk è tra i primi a fissare l'iconografia della Santa. Quindi la Santa viene rappresentata con l'abito di sacco l'abito di penetente perché era appunto remita sul Monte Pellegrino capelli lunghi e fluenti perché il Cascini che scriverà la sua biografia la identifica come normanne e discendente addirittura dal re Carlo Magno quindi francese e con alcuni elementi particolari quali sono per esempio la rosa e il giglio rosa lilium che si ricongiungono proprio al nome della Santa Rosalia. Questo quadro portò fortuna alla città di Palermo perché poi la peste fu sconfitta di fatto. Esatto, portò fortuna e divenne anche una delle immagini a cui attinsero a piene mani altri artisti tra cui soprattutto Carlo Maratta a cui 70 anni dopo fu commissionata la pala del famosissimo oratorio di Santa Cita sempre decorato come questo con stucchi del Serpotta e il Maratta si ispira proprio alla pala di Van Dijk riproducendo addirittura Santa Rosalia nella medesima posizione in ginocchiate di spalle e con un putto che come vedete qui viene raffigurato mentre si tura il naso per i miasmi della peste lì verrà invece rappresentato ormai 70 anni dopo ovviamente il pericolo della peste non c'era più verrà rappresentato che indica il cielo quindi la salvezza la Madonna del Rosario e il Gesù Bambino che porge il Rosario ai Santi Domenicani. Un'era segna importante questa rispetto del festino che è voluto quest'anno essere di introduzione alla festività tradizionale per il Mediterraneo e qual è il festino di Santa Rosalia una rasegna che ha visto sia rivoluzioni storiche e molto importanti della tradizione della Santuzza e anche la riscoperta come in questo caso di monumenti forse non molto conosciuti ma veramente importanti della nostra città. Cabine gratis a Mondello per i disabili e per i enti o le associazioni che promuovono l'inclusione sociale a metterle a disposizione la Società Mondello Immobiliare Italo Belga 40 le tessere disponibili 4 le cabine ecco come presentare la domanda Cabine gratis a Mondello per i disabili o per gli enti o le associazioni che promuovono l'inclusione sociale. A metterle a disposizione la società Mondello Immobiliare Italo-Belga. 40 le tessere disponibili, 4 le cabine. L'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo. Per poterne usufruire le persone con disabilità interessate devono presentare una domanda corredata dal verbale di invalidità con un minimo del 67% o dal certificato che attesta la disabilità sensoriale e dalla fotocopia del documento di identità. I legali rappresentanti degli enti o delle associazioni devono invece presentare domanda su carta intestata allegando fotocopia del proprio documento di riconoscimento negli uffici di Via Taormina 1 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 oppure possono inviare una mail. Sarà cura poi dell'ufficio, spiegano dal Comune di Palermo, concordare e coordinare con i richiedenti i turni di fruizione delle cabine rispettando prioritariamente l'ordine cronologico di arrivo delle istanze. Per ulteriori informazioni si potrà chiamare preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì o fuori dagli orari di ricevimento il numero 091 740 9471. L'utilizzo gratuito è destinato a persone con invalidità pari o superiore al 67%, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra con minorazioni ascritte dalla quinta all'ottava categoria previste dalle norme e dagli equiparati, ciechi civili affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, invalidi del lavoro dal 34%, invalidi per servizio e di guerra con minorazioni ascritte dalla prima alla quarta categoria previste dalle norme, sordi riconosciuti tali dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. La Cenerentola di Rossini per la stagione estiva del Teatro Massimo nel chiostro della Galleria d'Arte Moderna. Grande successo per la palermitana Chiara Amaru, per Alessandro Cadario sul podio e per tutto il cast. E' andata in scena ieri sera la Cenerentola di Gioacchino Rossini nel chiostro della Galleria d'Arte Moderna per la stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo. Alessandro Cadario è diretto con grande successo l'orchestra e il coro del Teatro Massimo, applausi convinti anche per la regia di Alberto Cavallotti, le scene disegnate da Christian Lanni e i costumi della Sartoria del Teatro Massimo diretta da Maria Hoffman. Un allestimento fresco, giovane e rispettoso della fiabba rossiniana pur con qualche taglio necessario per sottrare la leggerezza di Rossini alla pesantezza della festiva. Protagonista della metamorfosi di Cenerentola, dai maltrattamenti subiti dal patrigno, Don Magnifico e dalle sorellastre, fino alla trono accanto al principe Don Ramiro e Chiara Amaru, giovane mezzo soprano palermitano. Viene invece dall'Argentina il principe Don Ramiro, Francisco Brito, anche egli specialista del repertorio rossiniano. Per studiare il cuore delle donne, Don Ramiro si traveste da servitore e impone al suo valletto Dandini di fingersi principe. L'esilarante travestimento viene interpretato con verb da Francesco Vultaggio, giovane baritono siciliano. Il ruolo di Don Magnifico, il perfido patrigno di Cenerentola, è cantato da Fabio Maria Capitanucci, con le due sorellaste Giulia Mazzola Clorinda e Irene Savignano Tisbe, giovani promesse del canto che della Sicilia stanno iniziando una bella carriera. Infine il Deus Ex Machina, il sapientissimo Alidoro, interpretato dal basso catanese Emanuele Cordaro. Nella versione di Rossini, infatti, così come abbiamo un patrigno al posto della matrigna, anche la fata madrina diventa il precettore di Don Ramiro, che lo esorta a cercare una donna di alte qualità morali. Allo stesso modo, le scarpette diventano un paio di braccialetti. Cenerentola lo dona al principe tenendone al polso il compagno. Una favola lieto fine, quella di Rossini, ma comunque una favola che non cela la crudeltà del trattamento che patrigno e sorellastre riservano a Cenerentola, pur rivestendola di toni sorridenti e musica divina. Si replica domani e venerdì sempre nel Chiostro della Gamma. È tutto, grazie per l'attenzione. Come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione.